Piuttosto frequentemente mi viene chiesto, ma Francesca davvero si può guadagnare, si può monetizzare attraverso la passione per l'home decor, per l'home relooking? In questo video ti voglio spiegare meglio quelle che possono essere quattro modalità attraverso le quali potrai trasformare la tua passione per l'arredo, il decoro e la trasformazione degli ambienti a livello pittorico grazie all'home relooking. Sicuramente esistono diverse modalità attraverso le quali monetizzare attraverso la propria passione creativa. Una delle quali è sicuramente l'ambito consulenziale. Se ci pensi bene, se tu hai una competenza, sei diventata esperta e sei capace nel fare una specifica cosa, e nel caso in cui tu non fossi ancora esperta lo puoi sempre diventare andando ad approfondire, a studiare e a realizzare fino a quando diventerai un'esperta, queste tue competenze, quindi questa naturalezza nel realizzare o nel trasformare o nell'individuare o nel saper leggere gli ambienti in maniera molto fluida, sappi che non è una competenza di tutti. Non tutte le persone hanno e sanno fare quello che sai fare tu. Quindi in che modo possiamo trasformare questa nostra competenza in qualcosa di monetizzabile? Esiste un servizio ed è un servizio estremamente interessante perché può diventare davvero fattibile da qualsiasi luogo in cui ci troviamo. Basterà avere una connessione wifi ed una buona esperienza in quello che andremo a suggerire e insegnare o a spiegare. Quindi sicuramente la consulenza digitale è un sistema attraverso il quale noi possiamo guidare le persone nell'ambito del relooking ambientale verso la trasformazione dei loro ambienti, andando a capire e andando a suggerire attraverso delle immagini che ci vengono inviate come potremo andare a realizzare l'ambiente o meglio come suggeriamo al nostro potenziale cliente come poter andare a trasformare il suo ambiente. All'interno della consulenza si possono sviluppare diversi ambiti di progettazione. Possiamo per esempio preparare una mood board per il nostro cliente che lo aiuterà a capire meglio quindi quelli che saranno gli abbinamenti cromatici quelle che potranno essere le scelte di arredo qualora dovessero modificare o trasformare alcuni elementi di arredo che compongono l'ambiente. La consulenza può essere sicuramente di impronta o a monte può essere preparata grazie a un progetto di home styling ossia può essere una preparazione che viene fatta dalla consulente attraverso delle mail che vengono inviate e attraverso le quali appunto durante l'incontro vengono spiegate le soluzioni che abbiamo in mente e che potrebbero essere perfette per la nostra potenziale cliente. Una seconda modalità attraverso la quale si può monetizzare la nostra passione creativa per la trasformazione del mobile la pittura e sicuramente il relooking ambientale è quello di realizzare e organizzare degli eventi o dei corsi o dei workshop creativi attraverso i quali le persone mettono le mani in pasta e riescono a rendersi conto di come una trasformazione può essere svolta nel giro di veramente pochissimo tempo. Ecco un metodo per riuscire a creare un workshop efficace e estremamente impattante è sicuramente la comunicazione attraverso la quale viene veicolato. Ci sono veramente molte persone disposte a fare veramente tanti chilometri per raggiungere un luogo speciale per vivere un'esperienza particolare che viene appunto impacchettata propriamente per loro e attraverso la quale possono essere guidati e si sentono come dire accompagnati e non soli nelle fasi e negli step iniziali per l'approccio alla trasformazione del mobile. Questo per esempio è stato il primissimo modo attraverso il quale io ho scelto di cominciare la mia attività proprio realizzando workshop tematici creativi polifunzionali e polivalenti insieme ad altri professionisti che insegnavano anche altre tecniche. Sono diventati in questo modo degli eventi a tutti gli effetti attraverso i quali sono riuscita ad arrivare appunto a tantissime persone che poi hanno vissuto queste giornate perché a volte sono state anche più giornate in location molto particolari ma soprattutto si è venuta a creare un'energia e una, come posso descrivere, una situazione dove vengono convogliate più persone mosse tutte quante dalla stessa passione che vanno a generare una bellissima sensazione e un effetto veramente wow da parte di tutti quanti sia di chi insegna che di chi è presente e svolge il corso. Naturalmente imparando l'ombre looking impariamo la trasformazione anche decorativa e pittorica del mobile e del complemento e sicuramente anche questa è una delle cose che più viene utilizzata direi quella che è maggiormente più gettonata da parte di chi desidera poi reinventarsi professionalmente infatti molto spesso tantissime miei allieve aprono laboratori e fanno appunto trasformazioni di oggetti e di mobili andandosi poi a specializzare verso qualcosa di specifico attraverso appunto una tendenza particolare a livello stilistico o anche cromatica ma questo è un altro discorso sicuramente però tra il mobile quindi la trasformazione del mobile e il relooking ambientale c'è una certa differenza di monetizzazione fra le due cose e quello che suggerisco sempre di fare è sicuramente quella di partire dal mobile per poi arrivare al relooking dell'ambiente perché il passaggio è molto breve nel senso che tendenzialmente quando ci si approccia alla modifica di un oggetto generalmente dietro a quella modifica c'è una necessità c'è un desiderio di andare a riorganizzare magari lo spazio ma di andare anche in qualche maniera a recuperare quell'oggetto per poterlo armonizzare al resto dell'ambiente perché magari in quel momento non lo è e con la scusa dell'armonia ambientale l'armonia spaziale si può andare anche a dare o una consulenza a livello di ambiente appunto oppure si può andare anche a proporre un relooking globale dell'ambiente o della stanza di conseguenza frequentemente accade che chi sceglie la linea dell'home relooking o meglio del relooking globale ambientale ossia del cambio di look della stanza abbia necessità anche di fare un'operazione di decluttering e anche un'operazione di inserimento di qualche elemento nuovo quindi non è che proprio tutto può essere recuperato sono sincera ci sono anche delle cose che a volte è giusto eliminare anzi è quasi d'obbligo quando andiamo a fare un'operazione di relooking capire che cosa possiamo o eliminare o spostare magari da quell'ambiente che vogliamo mettere in ordine e riorganizzare perché naturalmente per cambiare un ambiente per trasformarlo abbiamo bisogno di fare spazio ad alcune cose per far sì che possano prenderne che possa prendere il loro posto qualcos'altro di nuovo e che possa andare a svolgere la funzione giusta che è poi quella che ci serve magari in quel momento specifico e quindi il quarto elemento diciamo la quarta modalità attraverso la quale possiamo monetizzare grazie a questo strumento e questa modalità professionale creativa è proprio l'home shopping sezioni di vero e proprio home shopping attraverso il quale la professionista accompagna la cliente all'interno di siti online attraverso sempre sistemi di consulenza oppure fisicamente se può accompagnarla fisicamente attraverso o in luoghi attraverso i quali potranno scegliere insieme l'illuminazione, i rivestimenti, le carte da parati tutto quello che servirà per andare a completare l'intervento di home styling che è stato realizzato magari in una fase precedente attraverso la mood board spero che in questo video tu sia riuscita a comprendere effettivamente quali sono i quattro elementi sui quali si basa l'attività della ombre looker quindi della professionista che sposa e riesce a coniugare arredo, decoro e pittura perché quando andiamo a trasformare un ambiente possiamo oltre che riorganizzarlo ridistribuirlo anche trasformarlo se ti è piaciuto questo video lasciami un like se hai qualche dubbio o domanda lasciamela qui sotto nei commenti e se desideri approfondire meglio questi argomenti ti invito a cliccare sempre il link in descrizione dove troverai un approfondimento molto interessante attraverso il quale potrai capire anche a livello economico quanti potranno essere i guadagni inerenti a questa bellissima professione e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao